Quando mi hanno offerto questo ruolo Io faccio il marito di Lina Si chiama Giancarlo, è un avvocato di 50 anni che una sera a cena decide di rivelare la sua scelta che è di diventare donna Allora, quando un attore propone un ruolo così C'è un'occasione straordinaria Io ci ho pensato perché stavo in quel periodo in teatro a fare le prove Tre soreze di cieco E quindi mi offrono di farlo Il ruolo di un avvocato Gli ho detto guardate che diventa donna E allora io l'ho fatto cercando di dargli l'umanità soprattutto di non fare una macchietta di questo ruolo E devo dire che grazie anche a Lina e soprattutto a Eros abbiamo fatto un buon lavoro Ma non si aspettavano Quando mi hanno visto il vestito di teatro Non si aspettava nessuno È una bellezza straordinaria Ma non si aspettavano Ma non si aspettavano E lo ha scambiato per Stefania Sandreni Essendo il bello delle donne Io mi avevo detto ma c'è anche la Sandreni allora No la Sandreni non c'è quando L'ha passata adesso la Sandreni E allora era Paolo Sassani Ho capito perché mi hanno offerto questo ruolo Ha fatto un lavoro straordinario È un grande attore Me ne renderete conto Veramente una cosa meravigliosa Ed è anche molto conosciuto Perché molti compagni È un buon rinascimento È un buon rinascimento È un buon rinascimento Ma assolutamente